Viene da Pisa. La passione. Brano che propone alla Commissione è la passione, evidentemente emozionato, ha avuto un attimo di titubato. La passione è lei, e lei non fa rumori. La passione è lei, e lei che fa sudare. La passione è lei, e lei che ti permette di toccare il sole con la mente, che ti rialza quando caschi giù, che tende l'onimo alle dante, il tuo nome è ancora più grande, e una vita prende forma, una strada si trasforma. La passione è lei, senza passione si può solo morire lentamente, dolcemente, amaramente. La passione è lei, e lei si fa trovare. La passione è lei, e lei si fa sfogare. La passione è lei, e lei che ti fa vivere intensamente questa vita consumata, che realizza i sogni che tu hai, che ti toglie quei pensieri che questo mondo ti ha mostrato, e non ti fa sentire a camminare sulle spine a lei. La passione è lei, senza passione si può solo morire lentamente. dolcemente, 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 amare la mente, senza passione si può solo morire lentamente. La passione è lei, senza passione si può solo morire lentamente. La passione è lei, senza passione si può solo morire lentamente. E' determinata adesso l'esecuzione del nostro Sauro Borgia, con la sua passione, evidentemente è anche in questo caso un brano inedito. Valeco, grazie!